Ho cercato di fare cronista, questi sono anni terribili, la grande crisi globale, finanziaria e nello specifico le criticità italiane hanno determinato quella che potremmo impropriamente chiamare una terza guerra mondiale e gli italiani questa guerra l'hanno persa. Così il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, parla del suo viaggio in Italia, un'esperienza triennale che l'ha portato a percorrere in lungo e in largo il bel paese. Oggi a Piacenza per presentare il libro a Palazzo Galli, Napoletano ha parlato anche della qualità della vita con la nostra città che perde cinque posizioni in un anno. Non è un risultato positivo ma sta comunque in un quadro congiunturale, ha detto Napoletano. Io penso che Piacenza, che ha una storia diversa, altrettanto importante, deve investire su se stessa per recuperare i primati che ha perso. Quindi deve, chiaro che ci vuole una qualità dell'amministrazione, ma ci vuole anche una qualità dell'imprenditoria, ci vuole una qualità della risorsa giovanile. Infine una battuta su Expo 2015. È un grandissimo banco di prova internazionale e da come andranno le cose capiremo se questo paese sta sulla buona strada o perlomeno prova ad esserci.